Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro a quel video. Elisabeth Shoff nasce il 3 ottobre del 1991 da Don e Madeline. È la figlia di Melzo. Ha una sorella maggiore, Susie, più grande di lei di 5 anni, e un fratello minore, Donnie, di 2 anni più giovane. È il settembre del 2006 e ci troviamo in una piccola città di nome Lugov, nel South Carolina. Susie, la primogenita di casa, si trasferisce, ma Elisabeth le resta sempre vicina, tanto che Susie la descrive come la sorella che tutti vorrebbero. Susie quasi ogni fine settimana fa visita alla famiglia e passa del tempo con la sorella adolescente. Le due chiacchieranno a lungo, guardano insieme la televisione. Insomma, sono davvero molto unite. A Elisabeth in realtà piace trascorrere del tempo con tutti i membri della sua famiglia. I suoi cari sono tutto per lei. Loro la definiscono come una ragazzina dolce, gentile e altruista, sempre presente per i suoi amici e felice all'aiutare il prossimo. Elisabeth desidera che tutte le persone attorno a lei stiano bene. Arrivata all'età di 14 anni, la ragazza sviluppa una passione per i trucchi, poi adora ascoltare musica e giocare ai videogiochi. In questo periodo si fidanza con un ragazzo di nome Nate. Inoltre, non vede l'ora di iniziare a frequentare la scuola superiore. È una ragazzina intelligente, che ama studiare. Mercoledì 6 settembre del 2006, la giornata inizia come tutte le altre per la famiglia Schof. Elisabeth si sveglia e si prepara proprio per andare a scuola. Verso le 7 e un quarto, sua madre Madeline la accompagna alla fermata dell'autobus, ma lì le due litigano, perché la ragazzina si è dimenticata il mascara e vorrebbe tornare a casa per prenderlo. Madeline però le dice che non c'è tempo che lo scuolabus sta arrivando e non aspetta. Elisabeth, come detto, è una cara ragazza, ma si sa, gli adolescenti talvolta sono un po' scontrosi. Così scende incavolata dalla macchina e, poco dopo, prende l'autobus diretto verso la scuola. Le ore di lezione trascorrono serene, poi la ragazza riprende lo scuolabus per tornare a casa. Scende dal pullman verso le 15 e 30, poi percorre a piedi il tratto di circa 200 metri che la separa da casa, perché a quell'ora i genitori lavorano. Spesso si incammina insieme agli amici, che scendono alla sua stessa fermata e la salutano una volta che è arrivata davanti casa. Ma, in questo giorno in particolare, Elisabeth percorre la strada da sola, in quanto gli amici tornano a casa. In macchina, grazie al passaggio del fratello maggiore di una di loro. Elisabeth ha declinato l'invito ad aggregarsi, sostenendo di voler fare una passeggiata. Tuttavia, Elisabeth non torna a casa. Anzi, sembra scomparsa nel nulla. Non vedendola rientrare, Donnie, il fratello minore, chiama sua madre, Madeline, e l'avvisa. La donna lascia immediatamente il lavoro e corre a casa preoccupata. La famiglia aspetta un paio d'ore, sperando di vedere Elisabeth varcare la soglia di casa, ma purtroppo questo non accade. Di conseguenza, intorno alle 17.30, Madeline chiama la polizia per denunciare la scomparsa della figlia. Gli agenti di polizia arrivano a casa degli Shof e, ascoltando la versione di Madeline sull'andamento della giornata, si inconvincono che la ragazzina sia scappata. Ma tutta la famiglia sa benissimo che non è da Elisabeth allontanarsi senza dare alcuna notizia. È una ragazzina con la testa sulle spalle e non farebbe mai preoccupare i suoi genitori. La polizia dunque inizia a cercare Elisabeth quella stessa sera, partendo dalla zona in cui abita, ma di lei non c'è alcuna traccia. Le ricerche proseguono la mattina successiva e si uniscono altri agenti di polizia. L'area circostante è molto estesa, circondata da campagna, boschi e poche abitazioni. Nel frattempo, altri agenti stanno raccogliendo dichiarazioni da tutte le persone presenti nella vita di Elisabeth, familiari e amici. Che tipo di ragazza è Elisabeth? C'è qualcuno nella sua vita che potrebbe averle fatto del male? Se fosse stata rapita, il responsabile sarebbe certamente qualcuno che la conosceva personalmente. I detective decidono di indagare sul fidanzato di Elisabeth, Nate. Gli chiedono dov'era nel momento in cui Elisabeth è scomparsa e il ragazzo spiega che era già a casa. I detective controllano il suo alibi che viene confermato, quindi il ragazzo è eliminato dalla lista dei sospettati. Oltre al fidanzato di Elisabeth, la polizia ha indagato anche sugli amici con cui lei tornava sempre a casa da scuola, quelli che quel giorno volevano offrirle un passaggio in macchina. Anche loro però vengono presto esclusi dalla lista dei sospettati. Nel frattempo le ricerche continuano e agli agenti si sono aggiunti i familiari di Elisabeth, i suoi amici e dei volontari. Tutti cercano attentamente una qualsiasi traccia della ragazza, gridando il suo nome. I detective si avvalgono dei cani, mentre gli elicotteri perlustrano l'area dall'alto. Inoltre le forze dell'ordine decidono di fare un appello pubblico tramite i media. Il volto della ragazza appare su tutti i telegiornali, oltre che sui volantini attaccati in zona. Tutti si stanno mobilitando al massimo nella speranza di ottenere informazioni o collaborazione. Grazie all'ampia diffusione della notizia diverse persone si fanno avanti e la polizia ne trae suggerimenti e indizi. Le chiamate man mano diventano centinaia. Tutti sostengono di aver visto Elisabeth. Qualcuno l'avrebbe avvistata in Texas, ma non si tratta di lei. Anche se la ragazza corrisponde alla descrizione. La polizia approfondisce ogni singola segnalazione, ma tutte portano a un vicolo cieco. Le ragazze avvistate somigliano soltanto a Elisabeth. Tuttavia nessuno si arrende. La polizia e la famiglia della ragazza sono determinate a trovare Elisabeth e riportarla a casa. Il compito è arduo perché gli investigatori non hanno una pista definita da seguire. Elisabeth non ha con sé il cellulare, quindi non è rintracciabile. È davvero difficile ricostruire il caso, ma nel settimo giorno di ricerche si verifica uno sviluppo importante perché la madre della quattordicenne riceve un sms da un numero sconosciuto. È il 13 settembre del 2006 e il testo dell'sms è il seguente. Ciao mamma, sono Lizzie. Sono in un buco nel terreno vicino a Charm Hill. Si trova nei pressi di quella strada buia dove passano quei grandi camion. Va a chiamare la polizia perché lui ha delle bombe nascoste. Appena Madeline riceve questo sms si convince che il mittente sia proprio sua figlia. Non pensa neanche per un secondo che qualcuno potrebbe spacciarsi per Elisabeth e anche il resto della famiglia ha la sua stessa convinzione. Questo perché chi scrive si è identificata come Lizzie, il nominion che a Elisabeth hanno dato in famiglia. Madeline mostra immediatamente il messaggio agli investigatori che finalmente hanno una pista da seguire. Nel messaggio la ragazza ha scritto di trovarsi vicino a Charm Hill, ovvero una parte di terreno di proprietà di una compagnia mineraria che si trova in un bosco vicino a casa di Elisabeth. Quella zona i detective non l'hanno ancora battuta, ma ora vi si recano subito. Agenti e volontari cercano la fossa nel terreno per tutta la sera e il giorno successivo, ma non la trovano. Tuttavia durante le ricerche a Charm Hill, gli US Marshal analizzano il numero di telefono da cui è stato mandato quel messaggio, visto che Elisabeth non ha con sé il cellulare. Sarà quello del rapitore? Esaminando i dati identificano un uomo di nome Wilson Fillier come proprietario del cellulare. L'uomo ha 36 anni e precedentemente lavorava come operaio edile. Ora risulta disoccupato, ma soprattutto è un abitante del posto, vive anche lui a Lughof, ma è un ricercato. Sulla sua testa pende un mandato di arresto da circa un anno. L'accusa è quella di aver aggredito una ragazzina di 12 anni. Appena i detective lo vengono a sapere, concludono che quest'uomo è esattamente il tipo di individuo che stanno cercando. È probabile che abbia preso in ostaggio Elisabeth. La polizia raggiunge immediatamente la roulotte in cui l'uomo vive, ma lì c'è soltanto la sua compagna, che è proprio la madre della dodicenne che Vincent aveva aggredito. Nonostante ciò, dunque, la donna è ancora in una relazione con lui. Inizialmente si dimostra addirittura protettiva nei suoi confronti, non pare disposta a collaborare con la polizia, ma alla fine permette agli agenti di dare un'occhiata in casa. I detective a questo punto capiscono perché Vincent era riuscito a sfuggire alla polizia per un anno intero. Sotto la roulotte c'è un nascondiglio segreto. Infatti scoprono un buco nel pavimento in una delle stanze. In passato, quando la polizia aveva bussato alla sua porta, l'uomo si era infilato in quel buco e lo aveva velocemente coperto con oggetti o mobili. Vincent rimaneva nascosto finché i detective non se ne andavano e incredibilmente il suo piano aveva sempre funzionato. Stavolta, però, il buco segreto è vuoto. La polizia comunque non si arrende e continua a perquisire la zona dietro la roulotte, dove individua un paio di bunker sotterrani scavati da Vincent. Anche qui non c'è traccia né dell'uomo né di Elizabeth, ma questo elemento fa risuonare un campanello d'allarme nella testa degli investigatori. L'uomo diventa il sospettato numero uno del rapimento. Poco tempo dopo, lo sceriffo incaricato di occuparsi del caso prende la decisione di rilasciare queste informazioni riguardo a Vincent e all'SMS ricevuto da Madeline, ai media, nella speranza che la popolazione collabori a individuarlo. Inoltre decide anche di riferire che la madre di Elizabeth aveva ricevuto un SMS scritto dalla figlia, ma inviato da un numero di cellulare non suo. La scelta a favore della condivisione dello sceriffo, però, risulta controversa. La famiglia di Elizabeth è preoccupata, specialmente per la notizia dell'SMS trasmessa dal telegiornale. Teme, infatti, che il rapitore, nel panico, possa prendere l'insana decisione di uccidere Elizabeth. Oltretutto, i parenti della ragazza non sono stati informati in anticipo della decisione dello sceriffo, ma scoprono la questione tramite il telegiornale e ne rimangono sbalorditi. Intanto, le ricerche nel bosco, nella zona vicina alla casa di Elizabeth, continuano. È il 16 settembre 2006. La ragazza è ormai scomparsa da dieci giorni. Gli investigatori e gli agenti stanno camminando tra gli alberi, quando, all'improvviso, un detective sente qualcosa. Un rumore, anzi, una voce, che sembra appartenere a una giovane ragazza. Il detective fa segno ai colleghi di fermarsi e di stare in silenzio. A questo punto, anche gli altri riescono a sentire la voce. Sì, appartiene a una giovane ragazza? Che sta urlando? Gli agenti avanzano soffermandosi sulla provenienza delle grida di aiuto. Si muovono con attenzione, perché Elizabeth, dall'SMS, aveva scritto che c'erano delle bombe nascoste nella zona. Alla fine, il detective avvista finalmente una giovane ragazza e la riconosce immediatamente. È Elizabeth. La raggiunge e la abbraccia, poi guarda accanto a lei e nota il bunker sotterraneo che definirà come la bocca dell'inferno. Dopo dieci giorni di ricerche, Elizabeth Schoff viene finalmente ritrovata. Ed è viva. La ragazza viene portata immediatamente in ospedale affinché i medici la visitino. Poi finalmente i suoi genitori entrano nella stanza, la abbracciano e le ripetono che ora è al sicuro. Appena Elizabeth si sente pronta, racconta alla polizia tutto ciò che le è successo. Come già sapete, il 6 settembre del 2006, Elizabeth è scesa dallo scuolobus e ha iniziato a camminare da sola per tornare a casa. Non è mai riuscita a rincasare, perché durante il tragitto un uomo che mai aveva visto prima si è parato di fronte a lei. Lo sconosciuto, come avrete intuito, è proprio Vincent, che se ne stava nascosto nel bosco. Quando ha visto Elizabeth, si è subito diretto verso di lei, dicendole che era un poliziotto della contea di Castle. Mentiva, ma Elizabeth non lo ha sospettato, perché lui indossava una finta maglietta della polizia. L'aveva realizzata lui stesso con il solo fine di ingannarla. Le ha spiegato che aveva trovato della sostanza leggera nella proprietà della sua famiglia, quindi lei era in arresto e doveva seguirlo. Ha aggiunto che altri agenti della polizia avevano già arrestato il fratello minore, Donnie. Elizabeth racconta che appena l'uomo ha menzionato suo fratello è andata nel panico e si è incamminata con l'agente per incontrare Donnie, convinta che la sua famiglia fosse davvero nei guai. Vincent l'ha ammanettata, poi gli ha messo uno strano dispositivo attaccato a una corda intorno al collo dicendole che era una bomba. Se Elizabeth avesse provato a urlare o scappare, lui avrebbe fatto esplodere la bomba. Come immaginerete, a questo punto Elizabeth era terrorizzata e ha seguito l'uomo che la guidava attraverso i boschi. I due hanno camminato in circolo per circa un'ora e lei ha intuito che lui stava cercando di disorientarla. Gli ha chiesto dove fossero suo fratello e gli altri agenti di polizia. Lui a questo punto gli ha risposto dai Elizabeth, sei una ragazza intelligente, avresti dovuto capirlo ormai. Elizabeth lo guardava confusa, allora lui le ha confessato i piani orchestrati per rapirla. A un certo punto le ha ordinato di fermarsi. Elizabeth ha pensato che fosse finita, che quell'uomo l'avrebbe uccisa, ma poi Vincent si è chinato verso il terreno e ha sollevato una porta di legno, aprendo il bunker. Elizabeth neanche l'aveva notata, era ben nascosta, coperta da rami e foglie. Vincent costringe Elizabeth a entrare nel bunker sotterraneo da lui scavato, scendendo attraverso una scala intrecciata con bastoni e rami. Elizabeth ricorda che il bunker era piccolo, buio e sporco. Le pareti erano fatte solo di terra, ma l'ambiente era organizzato per riprodurre una piccola casa. C'era un letto che Vincent aveva realizzato adoperando rami, tronchi e dello spago, un bagno composto da una sede da giardino rotta e un secchio, un serbatoio di propano per cucinare, un mini televisore portatile alimentato a batteria e infine quella che sembrava una bomba fabbricata artigianalmente da Vincent. L'uomo a questo punto ha chiuso a chiave la porta di legno del bunker con un lucchetto e si è avvicinato a Elizabeth per dare sfogo ai suoi istinti bestiali. Le ha tolti i vestiti e ha fatto violenza su di lei. Dopo l'orribile sopraffazione non le ha permesso di indossare nuovamente i vestiti, ma le ha messo una catena intorno al collo, chiusa con un lucchetto e agganciata al soffitto. Elizabeth è rimasta con la catena al collo per giorni interi, Vincent non gliel'ha tolta neanche di notte. Durante la sua prigionia Elizabeth ha subito diverse violenze. Vincent si approfittava di lei dalle due alle cinque volte al giorno. La ragazza sentiva le voci di coloro che giravano per il bosco gridando il suo nome, il rumore dei loro passi e quello degli elicotteri in volo. Ma il bunker non era stato individuato, nonostante fosse a circa un miglio di distanza dalla casa di Elizabeth. Quando Elizabeth e Vincent sentivano i rumori dei passi, l'uomo le tappava la bocca con una mano, poi si è procurato una pistola e la minacciava di morte, puntandogli alla contro. Durante i primi giorni di prigionia Elizabeth ha chiesto a Vincent perché stava facendo del male proprio a lei, perché l'aveva scelta. Lui le ha risposto che aveva osservato diverse ragazze del quartiere e aveva puntato all'obiettivo più facile, visto che viveva nella zona. L'aveva spiata così a lungo da aver imparato la sua routine, sapeva che ora sarebbe andata a prendere il pullman diretto a scuola. Sapeva quando sarebbe tornata, in quale orario. Elizabeth era la vittima perfetta perché, a differenza di altre ragazze del quartiere, aveva una routine ben definita. Insomma, non capitava mai che l'andassero a prendere i genitori dopo la scuola. Il suo rapimento, dunque, non è stato deciso in breve tempo, ma Vincent l'aveva ben premeditato. Elizabeth racconta che durante i primi giorni di prigionia si sentiva senza speranza, rassegnata, perché non sapeva come uscire da quel bunker viva. Poi ha notato che l'uomo aveva diverse armi, coltelli, un taser e una pistola. Dunque ha scogitato un piano una notte. Ha atteso che Vincent si addormentasse dopo averle fatto violenza. Si è alzata lentamente dal letto, ha afferrato la pistola, l'ha puntata alla testa di Vincent e ha premuto il grilletto. Ma non è accaduto nulla perché la pistola si è inceppata. In realtà si trattava di una pistola d'aria compressa, ma Elizabeth chiaramente non se ne intende. Si è messa a piangere a dirotto, ma poi ha trovato la forza di riposizionare la pistola al suo posto, ritornare a letto prima che il rapitore si svegliasse. Con il passare dei giorni, Elizabeth ha deciso di non arrendersi e ha scogitato un altro piano per salvarsi. Ha cominciato a fare del suo meglio per assecondare qualsiasi richiesta o parola di Vincent. Poi si è mostrata interessata a lui facendogli delle domande sulla sua vita per convincerlo ad aprirsi di più. Chiacchierava con il rapitore come se fosse suo amico e lui ha abbassato lentamente la guardia. Elizabeth si sforzava di reagire sempre meno agli assalti dell'uomo. Pian piano è riuscita a fingere che lei piacesse per renderlo più docile. Il suo piano stava funzionando, Vincent acquistava fiducia in lei e ora le permetteva di rimettersi i vestiti addosso. Le toglieva la catena dal collo affinché le fosse più facile dormire e in alcune occasioni le consentiva di andare all'esterno del bunker per qualche minuto a prendere un po' d'aria fresca, chiaramente se non c'era la polizia nei dintorni. Di notte entrambi arrivavano a piedi fino a un laghetto vicino dove Elizabeth si lavava. A questo punto Vincent ha cominciato a chiamarla piccola e le ha detto che l'amava. Elizabeth ha affermato di ricambiare i suoi sentimenti. Spesso si sedevano insieme a guardare la tv nel bunker quindi Elizabeth ha visto al telegiornale che la stavano cercando senza sosta. Vincent guardava attentamente i notiziari proprio per sapere come procedevano le indagini. Elizabeth ha notato anche che l'uomo aveva sempre con sé un cellulare e lo usava soprattutto quando uscivano di notte per andare al lago vicino. La ragazza è riuscita addirittura a scoprire che mandava messaggi alla sua compagna. Elizabeth voleva sottrargli quindi il telefono per inviare un messaggio a sua mamma e farle sapere dov'era. Così la polizia l'avrebbe salvata. Quindi quando Vincent si è addormentato durante la notte lei si è alzata dal letto silenziosamente. Ha preso il telefono e ha scritto a sua madre. Una notte Vincent si è svegliato e gli ha chiesto cosa ci facesse con il suo telefono in mano. Ma Elizabeth è stata abbastanza veloce da cancellare il messaggio e aprire il gioco Snake. Ha detto all'uomo che non riusciva a prendere sonno e stava solo giocando. Lui ci ha creduto e si è rimesso a dormire. Nelle notti successive Elizabeth ha continuato a rubargli il telefono per scrivere sms indirizzati a sua madre. Ma sfortunatamente non è mai riuscita a inviarli perché c'era poco campo nel bunker. Una notte ha provato a sollevare il telefono attraverso un piccolo spazio sollevando appena la porta di legno. Le è parso l'idea che non avesse funzionato. Invece un messaggio come sapete è arrivato a destinazione. La mamma di Elizabeth l'ha mostrato alla polizia e lo sceriffo ha deciso di condividerlo con il pubblico tramite i media. Così il nono giorno di prigionia mentre la ragazza e il rapitore guardavano il telegiornale è emersa la novità dell'sms ricevuto da Madeline scritto dalla figlia scomparsa. La notizia afferma di essere in cerca di Vincent Filior perché il numero da cui era partito il messaggio apparteneva a lui. Ora riuscite a immaginare la paura di Elizabeth. Vincent ha girato lentamente la testa verso di lei e ha iniziato a fissarla. Elizabeth spiega che in quel momento il cuore le stava esplodendo nel petto. L'uomo ha iniziato a urlarle contro chiedendo le conferma di quanto aveva appena preso in tv. Elizabeth ha cercato di negare di convincerlo che lo amava e che non aveva intenzione di andarsene. Notava il terrore in padronirsi nel volto di Vincent che si sentiva prossimo alla cattura. Era il sospettato numero uno per la scomparsa di Elizabeth. Preso dal panico ha chiesto a Elizabeth cosa avrebbe dovuto fare e lei gli ha suggerito di scappare lontano un posto dove non sarebbero stati in grado di trovarlo. Gli ha promesso che poi lo avrebbe raggiunto così avrebbero potuto vivere assieme. Vincent pensate un po' le ha creduto e ha iniziato a mettere le sue cose in un borsone. L'ha salutata abbracciata gli ha detto che l'amava tanto ed è uscito dal bunker per scappare. A questo punto Elizabeth avrebbe potuto andarsene ma non si sentiva al sicuro temeva che lui potesse tornare indietro e beccarla mentre cercava di fuggire o che la stesse aspettando nel bosco quindi ha deciso di rimanere nel bunker per quella notte. Ha dormito un po' poi la mattina dopo il 16 settembre 2006 dieci giorni dopo essere stata rapita si è svegliata si è guardata attorno nel bunker ha visto che Vincent non era tornato e ha capito che quello era il momento giusto per fuggire. Ha risalito le scale ha aperto la porta del bunker ed è uscita all'aria aperta poi ha iniziato a chiedere aiuto urlando finalmente come già vi ho raccontato un detective ha sentito l'esse grida ed è riuscito a raggiungerla l'ha abbracciata e l'ha portata in ospedale il caso però non è ancora risolto la polizia ha trovato Elisabeth ma deve ancora rintracciare Vincent fortunatamente non passa molto tempo infatti nelle prime ore del mattino seguente verso le due e mezza Vincent viene avvistato a circa 5 miglia da casa sua l'uomo si era avvicinato a una donna che stava per salire in macchina l'aveva minacciata con un coltello e le aveva ordinato di consegnargli le chiavi della sua automobile è chiaro che Vincent stava cercando di rubargliela per allontanarsi il più possibile tuttavia la donna lo aveva riconosciuto avenderlo già visto al telegiornale e con coraggio gli aveva risposto che non lo avrebbe aiutato Vincent era scappato via perché non aveva alcuna intenzione di commettere un omicidio e la donna aveva chiamato immediatamente la polizia un paio d'ore dopo l'uomo viene trovato mentre vaga ancora in quella zona e viene arrestato più tardi quello stesso giorno viene interrogato dagli investigatori e ammette il suo coinvolgimento nella scomparsa di Elisabeth non si sente assolutamente in colpa per quello che le ha fatto perché dal suo punto di vista non è nulla di male dice agli investigatori che Elisabeth era consenziente anzi era addirittura felice di stare con lui nel bunker ovviamente le convinzioni dell'uomo non hanno alcun valore per la polizia che lo arresta Vincent viene accusato di rapimento di possesso di esplosivi di essersi spacciato per un agente di polizia e gli vengono notificati dieci capi di imputazione per violenza si dichiara colpevole di tutte le accuse e nel settembre del 2007 un anno dopo Vincent Filler viene condannato a 421 anni di prigione rimane dietro le sbarre per 15 anni fino a quando nel maggio del 2021 muore all'età di 51 anni Elisabeth come immaginabile ha sofferto tantissimo durante e soprattutto dopo la sua prigionia soffriva di disturbo da stress post-traumatico depressione ansia accusava spesso attacchi di panico faceva terribili incubi Elisabeth è diventata una persona diversa la famiglia sottolinea che la luce negli occhi di Elisabeth si è spenta dopo il suo rapimento ma col tempo la ragazza ha iniziato a sentirsi meglio certo ha ammesso più di una volta che quello orrendo accaduto fa parte di lei che non potrà mai dimenticarlo tuttavia nel corso degli anni è riuscita a gestirlo meglio e ad andare avanti con la sua vita oggi Elisabeth ha poco più di 30 anni è madre ha un bambino piccolo e lavora come assistente presso un dentista è intenzionata a studiare per diventare un igienista dentale grazie al suo grande coraggio e alla sua intelligenza la vita è di nuovo nelle sue mani io ho finito di parlare in questo video il caso di oggi devo dire mi ha lasciata abbastanza stupefatta perché a un certo punto Vincent ha creduto davvero che Elisabeth si fosse innamorata di lui stiamo parlando di un uomo di più di 30 anni e una ragazzina di 14 anni io non ho trovato nessuna perizia psichiatrica su Vincent ma non credo che fosse a casa tutti i mercoledì e neanche tutti i venerdì diciamo così io sono molto molto contenta ovviamente di essere riuscita a portarvi una storia agli altri fine Elisabeth oggi sta molto meglio ha la sua vita e insomma è riuscita a superare questa brutta esperienza che sicuramente si è portata dietro per molti molti anni e sono molto molto contenta che insomma il tutto si sia concluso in modo positivo ovviamente per la vittima e in modo negativo ovviamente per il colpevole sono assolutamente contenta della pena che ha subito secondo me doveva proprio carcere a vita doveva ricevere come pena questo uomo e effettivamente 451 anni o più di 400 anni penso sia una buona pena onestamente poi chiaramente è morto non è chiaro neanche bene come ma quanto capito è morto di morte naturale tipo ha avuto un infarto o una cosa del genere quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso visto che ogni tanto mi chiedete casi a lieto fine ho cercato di portarvene uno e niente ragazzi fatemi sapere quello che ne pensate qui sotto nei commenti come al solito ci becchiamo nei commenti e nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facete nulla di criminale ciao a tutti